e bella a tutti ragazzi io sono mattia come conoscete sul canale per mattias e benvenuti in un nuovo video in pratica questo video vedete mi manca pochissimo ad arrivare ad ems ad 8000 trofei su brawl stars beh infatti l'ultima brawler del cammino dei trofei come vedete del della trophy road vabbè in pratica sto registrando qua hits recorder sul mio cellulare e questo video deve essere ben fatto che arriverò ad ems cioè ho trovato tara come vedete e anche bea sono un po migliorato da quando ho iniziato a giocare cioè è stato aprile 2020 cioè pasqua 2020 quest'anno cioè vabbè lasciamo stare iniziamo a guadagnare il più trofei possibile per arrivare ad ems sono a 7.989 trofei sperando che questi non facciano teaming per uccidermi mi capita spesso eh no oh no dynamite dynamite coglione di merda ma come faccio come faccio ora c'è raga ma avete visto ma era un nabbino poi mi fa spawnare in zone di merda sto gioco ecco di nuovo nella stessa zona di nuovo nella stessa zona a no non è la stessa zona però mi sa che questa è anche questa è una zona di merda dove si può morire aspetta che ricarica bene dovrebbero esserci sì già chi la chi ti tra loro sti qua ah no non sto iniziando a farlo cioè avevo davvero avevo detto proprio in tempo la frase merda il canone di penny oh quello è italiano si chiama gix andrea anche quello la si chiama marco oh no 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 oh sto pezzo di merda no vabbè mi sa che tara non la posso usare devo un po' imparare meglio ad usarla anche se ce l'ho al grado 13 cioè devo usare bea si sono andato bene bene adesso e oggi robot ci sono almeno possono un po' aiutare a killare i giocatori a decimarli un pochino così per darci un vantaggio una piper c'è nita ho visto camperata lì bene bene ti avrei uccido se avessi ricaricato in tempo il colpo ti avrei aperto come un medico durante un'operazione chirurgica vabbè ho recuperato quei tre trofei persi almeno ho recuperato quelli però devo continuare raga solo otto giocatori trovati anzi se a 10 non so si spattano queste cose no no dai gail no per favore scusate se vi chiamate l'indo però nel mio originale si chiamate l'indo ed è mi piace il pilo nel mio originale ve lo dico meno male non mi lisciate tantissimo è molto male questa sta prendendo come tu pare quel rap me ne approfitto me ne approfitto veramente siamo ancora in 9 mamma mi ha eliminato il Daryl in umane fa che abbia almeno ricevuto ah meno male perché se no eravamo messi male guarda guardate mi manca così poco vedete 10 trofei mi mancano poi voglio testarlo un po' in game guardate ho shoppato una skin per Riko Lodid Riko bellissima infatti è il mio brawler preferito e perciò cioè gli ho shoppato una skin a Riko non posso prendere power up viene viene ad uccidermi quello quella nani come si chiama Iris nella lingua originale no niente neanche qui ho eliminato una una cosa un leo devi morire veramente nooo no mai più usarlo devo recuperare troppo raga no 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 Per sicurezza in casa ci fosse un nemico No niente amici No ancora lui Per favore Ho ucciso una Colette con il bombone di tic Si non anche un autobit Non la bea Ma vaffanculo Guarda Bea di merda Beh ce l'ho fatta a recuperare i trofei e a ottenerli ante le due Mi ne mancano solo otto Vabbè dobbiamo continuare Provo con Penny Devi morire Bombardino di merda Ma quanti Devi farti i cazzi tuoi Devi essere bannato a vita da questo gioco Bombardino di merda Giocatore di merda che non sei altro Cazzo Difficile però arrivare ad Ems Se i nabbi non restano nabbi è impossibile salire di livello Prima o poi i nabbi diventano pro e perciò è difficile giocare ai videogiochi I nabbi dovrebbero rimanere nabbi e perciò Così sarebbe un po' più facile giocare raga Cioè lo so potrebbe sembra avvistano quello che vi sto dicendo ma Vieni a cercare me ovviamente quel robot Ah no non viene a cercare me Oh merda Oh però coso Proprio da me deve venire Ma vaffanculo Prendi questo Prendi questo cazzo di colpo eh Ti piacciono i miei colpi Ti piace quanto ti sparo Robot di merda Aspetta cazzo No 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 Raga Devo farci Ciao Ems Tra poco sarai nei miei brawler Vaffanculo Però raga veramente Tre trovei mi mancano Mi guarda piper mi metto Sto avvitando i brawler a gradi troppo alti Non sugar and spice Ancora sono senza power up Perché ci sono loro Tra i Che non si tolgono Ci sono questi che non si tolgono Le coglioni No dai lo spike Devi morire proprio In questo gioco Meno male Dai però Solo due trofei Mi mancano eh Ma raga Veramente Speriamo che questi siano Abbi Perché proprio No ancora Ancora Non si può giocare qui No l'8 beat Perché non vi chillate Tra voi Speriamo non voglio fare fake teaming Sto qui Questo voleva teamare Davvero Sì No Ma vabbè Vieni adesso Sì Vediamo raga E ora Eccola qui Soprattutto raga Guardate Eccola Ce l'ho finalmente Guardate com'è orgogliosa Davvero Io Adesso Proprio La voglio Vediamo un po' come si comporta in game La voglio testare in gioco Proprio perché Ok I'm so overpowered About this No Va bene Numbo L'ho ucciso con Ems Sto qui Oh mi ha fatto sopravvivere tanto Cioè sono Siamo rimasti in tre Infatti Ha detto hashtag winning Hashtag vincere Grande Io adoro sta brawler Sì che te ne vai lì Lì c'è la puzza amico Io ho già la mazzina in quattro Ho vinto Già il grado 2 raga Finalmente vi mancano ancora diversi brawler da sbloccare Mio fratello ce l'ha a Gale L'ha sbloccato in una cassa normale Io non ancora invece Questo è il nuovo proler cromatico Guarda faccio un'ultima partita con Ems E poi stoppo la registrazione Raga Come Quanto danno fa raga Come tu che i giocatori diranno Togliete Ems O defundenziatela Come tu che i giocatori Perdente Non ci posso credere Due partite vinte con Ems Beh Raga vedete Tutti i brawler del cammino di trofei completati Me ne mancano ancora diversi Vediamo C'è pure l'icona di Ems Però preferisco raga di gran lunga l'icona di Rico Beh raga Il video finisce qui Io vi saluto E Ci vediamo al prossimo video Ciao 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 Ciao